La folla si dice the crowd, c-r-o-v-d, the crowd. Quindi per dire pieno di gente, no, io posso dire affollato, quindi crowd, to crowd è anche un verbo, quindi posso metterlo al participio, quindi crowded, it is crowded, è pieno di gente, it is crowded. C'è molta gente qui, it is very crowded here. Se io voglio dire c'è troppa gente qui, devo dire it is too crowded here. Come si dice entrambi? Both. Entrambi noi, cioè noi due. Both of us. Entrambi voi, voi due. Both of you. Certamente. Come si dice riempire? Riempire to fill, f-i-l-l, to fill. Questo è da non confondere con cadere, come si dice cadere? Fall, f-a-l-l. Invece seguire, to follow, f-o-doppia-l-o-v-doppia. To follow. Ed è anche da non confondere con sentire, nel senso di tatto, di emozione. Sentire. Abbiamo riempire e sentire, f-i-l, ok? Seguire. Seguire. To follow. Fall è un verbo irregolare. Quindi abbiamo to fall, al passato fell, al participio passato fallen. Come diresti, è andato via, è andato via ieri. È andato via ieri. E come diresti, è caduto, è caduto ieri. Quindi, è andato via ieri. Quindi, è andato via ieri. He left yesterday. È caduto ieri. He fell yesterday. Quasi, quasi in inglese, si dice almost. Almost. Appartenere. Appartenere, si dice, to belong. Ed è un verbo regolare. Quindi, mi appartiene. Come lo diresti? Mi appartiene. Oppure, non. Non mi appartiene. Come diresti, quello. Non mi appartiene. Quindi, mi appartiene. It belongs. It belongs, terza persona, to me. It belongs to me. Non mi appartiene. Non mi appartiene. It doesn't. It doesn't belong to me. It doesn't belong to me. Allora, dammi alcune maniglie dopo il quale non bisogna mettere il to. Abbiamo can, could, must, will, would, should, shall, let. Sono tutte maniglie che servono a esprimere, o esprimersi bene in inglese. L'utilizzo delle maniglie sono veramente la chiave per capire come funziona la lingua inglese. Let vuol dire lasciare, ma non nel senso di lasciare qualcosa sul tavolo, ma nel senso di permettere. Con let non utilizzi mai to, ma sempre l'infinito senza to. Quindi, let's go. Andiamo. Let's go. È un imperativo alla prima persona plurale. Let's go. Let's do it. Facciamolo. Let's do it. Quindi, come diresti, lascialo fare. Lascia, lascialo fare. Lascia che lui lo faccia, letteralmente. Lascialo fare. Lasciami, lasciami lavorare. Come diresti, quello in inglese. Quindi, lascialo fare. Lascia che lui lo faccia. Quindi, let him, lascialo fare. Do, quindi senza to, quindi do it. Lascialo fare. Let him do it. Lasciami lavorare. Let me work. Let me work. Lasciami lavorare. Lasciami farlo. Lasciami farlo. Come diresti, quello in inglese. Lasciami farlo. E proviamo, non lasciarlo andare via da solo. Non lasciarlo. Andare via da solo. Non lasciarlo andare via da solo. Come diresti, quello in inglese. Allora, lasciami farlo. Let me do it. Let me do it. Non lasciarlo andare via da solo. Quindi, negativo. Don't let him leave alone. Ok? Don't let him leave alone. Un modo per dirlo ancora più forte, questo da solo, potrei dire, se voglio, by himself. By himself. Ok? Con se stessi, letteralmente. O potrei dire, all by himself. È ancora più enfatico, se vogliamo. Don't let him leave all by himself. Ok? È più forte che solo alone. Allora, guardare, guardare nel senso di guardare qualcosa, quindi guardare una partita, si dice in inglese to watch. Ok? Guardare to watch. E questo, se vogliamo seguire con un verbo, dobbiamo seguire con un verbo all'infinito. Quindi, l'ho guardato fare. O l'ho guardato... L'ho guardato... O guardato... Quindi, l'ho guardato fare. L'ho guardato... Fare. Dovrei dire... Dovrei dire... I watched him do it. Mi chiede qua l'oggetto. Quindi, I watched him do it. L'ho visto fare. Ok? Anche qua. L'ho... L'ho visto... Fare. I saw... I saw him do it. I saw him do it. Forzare. Forzare in inglese. Forzare qualcosa. Si dice to force. Vuol dire anche obbligare, se vogliamo. To force. Ok? Quindi, l'ho forzato a farlo. L'ho forzato a farlo. L'ho obbligato. Bisognerebbe dire... L'ho forzato lui a farlo. To do it. I forced him to do it. Per dire forzare, ma con un po' meno forza, possiamo usare make. Quindi, l'ho forzato. E qua stiamo usando in effetti make come maniglia. Quindi, forzare... Possiamo usare, appunto, il verbo to force, ma possiamo anche usare to make. Ok? E vuol dire la stessa cosa. Quindi, l'ho forzato a farlo, però un po' meno forte di force. Potrei dire... I made him do it. Al passato. I made him do it. I made him do it. Ok? Quindi, sta anche per lo spinto. L'ho spinto ad andarci. Anche qua stiamo usando made. Ok? Quindi, l'ho spinto ad andarci. Come lo diresti? L'ho spinto ad andarci. Ok? Allora... I made him go there. I made him go there. I made him go there. Come diresti? Deve... Deve andare via adesso. Deve andare via adesso. Come diresti? Quello in inglese. E come diresti? Non è venuto oggi. Non è venuto oggi. Oppure... Deve... Deve essere malato. Deve essere malato. Ok? Allora... Deve andare via adesso. He... He must... Leave. He must leave... Now. Oppure potrei dire... He has to... Leave now. He must leave now. He has to leave now. Non è venuto oggi. He didn't... Come... Come... Allora, per dire... Deve essere malato... In questo caso... Il mio deve... Non esprime... Un'obbligazione. Qua non sto dicendo... E' obbligato che... Ma, infatti lo sto dicendo però... Non è un'obbligazione. Sto dicendo o esprimendo una probabilità. Deve essere malato... Dato che non è venuto oggi. Deve essere malato. E in questo caso, in inglese... Devo usare anche la parola must. Quindi... He must be ill. He must... Essere be... Quindi... He must be ill. Ok? Ed è... Esprime una probabilità. Questo deve essere. Quindi, come si dice... Lui deve... Lui... Lui deve... Lui deve... E poi... Verbo... Come si dice... Quello in inglese. Ok? Quindi... He... He must... Allora... Lui deve andare... Lui deve andare... Cioè... Lui deve andare... Quindi è obbligato... Ad andare... Perché qualcuno gli ha detto di andare... Ok? He... He must leave... He must leave... Ok? Però... Deve essere stanco... Deve... Deve... Be... Be... Be tired... He must be tired... Se io voglio... Questo è al presente... Se io voglio invece dire... Ha dovuto... Ha dovuto andare via... Stamattina... In questo caso sto mettendo l'obbligazione al passato... Non posso usare must al passato... Allora in questo caso devo usare... Have to... Però al passato... Quindi... He had to... Leave... This morning... He had to leave this morning... Questo è l'obbligazione al passato... Ma se voglio esprimere... Una probabilità di un evento passato... Ma non lo so dove... Sarà andato via... No? Sarà andato via... Probabilmente è andato via... Per esprimere questa probabilità... Devo usare un'altra forma... No? Quindi... È una probabilità al passato... Quindi abbiamo... Quindi se voglio esprimere... Una probabilità di un evento passato... Per esempio... Sarà... Andato via... Stamattina... Cioè... Per dire... È probabile che... È andato via stamattina... In questo caso uso must... Ok? Quindi must... He must... Però inserisco have... E poi metto left... He must have left... Must have left... This morning... E questo mi esprime... La probabilità al passato... He must have left... This morning... Quindi come diresti... Sarà andato via... He must... Have left... L'avrà mangiato i cane... I cane l'avrà mangiato... The dog must have eaten it... The dog must have eaten it... Ma se voglio dire... Doveva... Doveva partire stamattina... He had to leave this morning... He had to leave this morning... Tutto quello che ti serve... Per parlare l'inglese... È ora a tua disposizione... Tu hai seguito questo corso con me... E mi complimento con te... Se sei arrivato a questo punto... In questo corso... Ho cercato di affrontare i temi principali... Della lingua inglese... In modo che... Voi potete... In qualche modo... Esercitare... Man mano che fate il corso... E cercare... Di acquisire... Almeno un po'... Le nozioni principali... Credo che se voi... Provate... A parlare... A leggere... Ad ascoltare un po' l'inglese... Comincerete... A notare... Che qualcosa... E' entrato... Quindi io vi ringrazio per... L'attenzione... Vi ringrazio per i vostri commenti... Per i vostri suggerimenti... Io vado avanti con YouTube... E con questo progetto... Che trovo molto interessante... E spero di vedervi nei prossimi corsi... Grazie... 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 Grazie...